realizzare progetti di investimento che renderanno più sostenibili dal punto di vista energetico le aree e le infrastrutture aeroportuali gestite dall'ENAC e quanto previsto dal protocollo per avviare una cooperazione istituzionale sottoscritto dall'ente nazionale per l'aviazione civile con cassa depositi e prestiti oltre all'impegno nella promozione della sostenibilità e nella decarbonizzazione del settore l'accordo consentirà di incrementare l'autonomia energetica e ridurre il proprio carbon footprint.